17 giugno 1972 vengono arrestati dalla polizia di Washington cinque uomini che si sono introdotti illegalmente negli uffici del Partito Democratico nel complesso del Watergate. Risultano essere agenti CIA direttamente legati allo staff della Casa Bianca. Scoppia lo scandalo Watergate, un fatto politico senza precedenti che sconvolge l'intera nazione e che porterà alla richiesta di impeachment e poi alle dimissioni del Presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon.